Ciao ragazzi, oggi sono qua per spiegarvi la linea Smart Bond, ovvero la linea che ristruttura e preserva la fibra capillare. Questo è lo step 2, ovvero è un pre-shampoo che toglie tutti i residui chimici che comunque colorazioni e decolorazioni possono comunque rovinare e sfibrare il nostro capello. Allora, fatto il colore, ovviamente applicato insieme alla fase 1 di questo ristrutturante, passato il tempo di posa sciacquiamo il tutto, quindi sciacquiamo colore e decolorazioni, quello che abbiamo fatto e passiamo alla parte seconda che è questa. Questo è un prodotto che va applicato lunghezza e punte, comunque ricordiamoci di mantenerci lontano un paio di centimetri dalla radice. Il quantitativo di prodotto da utilizzare va in base alla nostra capigliatura, quindi cappello corto, lungo, pochi capelli o tanti, va dalle 6, 4, 6 pressioni fino a 8 pressioni, proprio se parliamo di capello molto lungo. Va applicato sul capello, quindi come vi dicevo sciacquato e tamponato, lasciamo l'imposa dai 10 ai 20 minuti, dopodiché risciacquiamo il prodotto e procediamo tranquillamente con il nostro shampoo e maschera abituati ad usare di solito. Ragazze grazie e alla prossima, ciao!